I cibi a cui sono allergico sono mais, orzo, avena, aglio, cipolle, senape, mandorle, fagioli, soia, pissegno. Scusi, perché siete nuovi di abitare qui a Casal Palocco? Guardi che bel verde, che bella città. Sì, ma 30 anni fa, 61, 62. 62. Ecco, 30 anni fa, Roma, era bellissima. Che sarebbero questi due amici da ospitare, se non volesse essere così? Tutto il contrario di Amsterdam. Ti prego, passami papà. Ti faccio il maialino. Non credo nella maggioranza delle persone, mi sa che mi troverò sempre a mio agio, è d'accordo? Una minoranza. A voi. E qui. Non credo nella maggioranza delle persone, mi sa che mi troverò sempre a mio agio, è d'accordo, 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 è d'accordo. Grazie a tutti.